Salve a tutti, in questo video ci concentriamo sugli effetti del livello, questi qua. Ma prima voglio dirvi un paio di cosette. Allora, innanzitutto, come abbiamo visto nell'ultima parte, i livelli si possono ordinare. Non ve l'avevo detto all'inizio, ma allora adesso creo un altro livello. Allora, io qua dipingo, ad esempio, con questo colore qua sopra. Il livello 1 sta sopra il livello del pianeta, ma se io lo prendo e lo trascino qua sotto, vedete, la cosa si inverte. Quindi il pianeta passa sopra. Quindi i livelli possono essere ordinati, quindi ci tenevo a dirlo perché non l'avevo detto, ma lo avete visto nell'ultima parte. Allora, cancelliamo questo livello. Allora, io ho scaricato una clipart trasparente, questa, perché vi voglio far vedere gli effetti. Allora, quindi parliamo anche velocemente delle clipart trasparenti, che vi possono essere molto utili. Le clipart trasparenti sono quasi sicuramente PNG, perché il JPG non può essere salvato in trasparente. Se voi avete un'immagine di questo tipo, vi ho detto se vi ricordate che la scacchiera sta a significare che è trasparente. Se voi un'immagine di questo tipo la salvate in JPG, avrete uno sfondo bianco, quindi non è più trasparente. Allora, adesso riempiamo temporaneamente questo sfondo di bianco, così vi faccio vedere velocemente come scontornare un PNG trasparente. Allora, per farlo userò la bacchetta magica, quindi ripassiamo una un pochino. Faccio clic qui, quindi mi è stato selezionato tutto il trasparente, vedete? E adesso con il secchiello, secchiello, riempio di un colore. Ecco fatto. Selezione e deseleziona. Non è perfetto, vedete qui c'è ancora il trasparente, ma non importa. Allora, come si fa? Ci sono tanti modi. O usiamo la bacchetta, clicchiamo qui, quindi ho selezionato tutto quello che c'era prima e quindi con la gomma posso andare a cancellare, senza preoccuparmi di cancellare il pianeta. Oppure, se ciò non è fattibile, se il vostro soggetto sta sopra una marea di colori, le selezioniamo, allora andiamo direttamente con la gomma. E cancelliamo. Qualcuno mi potrebbe dire, ma io sto provando a cancellare con la gomma, ma non c'è il trasparente dietro, c'è qualcos'altro. Perché dipende dal livello, ovvero il livello è il primo di tutti, quindi sotto c'è trasparente. Se io avessi avuto un livello di sfondo, ve lo faccio vedere qua, come in questo caso, se io vado a cancellare qua, non si è visto nulla, ma in realtà ho cancellato, perché sotto c'è il livello sfondo. Adesso lo disattivo. Ed ecco che si vede il trasparente. Quindi voi vedete il trasparente quando state agendo sul livello più basso. Quindi se volete scontornare un soggetto su trasparente, dovete avere quello come unico livello, o comunque dovete fare in modo che il livello sia quello più basso. Adesso faccio annulla. E torniamo qua. Quindi con la gomma noi andiamo a scontornare in questo modo. Il lavoro può essere lungo, ecco perché gli strumenti di selezione ci vengono in aiuto, perché con gli strumenti di selezione possiamo selezionare delle parti e evitare che la gomma possa andare a intaccarle, come ho fatto prima. Con la bacchetta magica io clicco qui e sono sicuro che la gomma non mi andrà a toccare il sotto. Guardate, vado veloce, ma non c'è nessun problema. Comunque abbiamo già visto gli strumenti di selezione, ci tenevo a fare questo video. Una volta che avete scontornato tutto quanto, che avete tutto quanto in scacchiera, ovvero in trasparente, fate file, salva con nome e salvate in png. Molto importante, perché deve mantenere il trasparente. Adesso abbiamo divagato, torniamo qui. Vediamo gli effetti del livello. C'è differenza se li applico qui o se li applico qua, allo sfondo copia? Diciamo che ha poco senso usare gli effetti su un livello che prende tutta quanta l'immagine, perché non si possono vedere tante cose. Vi faccio subito un esempio. Adesso prendiamo il pianeta, che ha dei bordi ben definiti. Clicchiamo su FX. Allora, possiamo cliccare su uno a caso, poi tanto si apre tutto quanto. Ed eccolo qua. Allora, le opzioni di fusione, le abbiamo già viste, comprendono l'opacità, guardate il pianeta, e il metodo di fusione. Abbiamo visto che, vedete, a seconda di quello che seleziono, si fonde in un modo diverso con ciò che sta sotto. Lo lascio a normale. Qua ci sono altre opzioni, tipo l'opacità di riempimento, fondi se, grigi, guardate. Ci sono altri settaggi avanzati. Qua abbiamo lo smooth effetto rilievo, e guardate, guardate i bordi, vedete? A seconda di come io gestisco questi parametri, guardate, l'effetto cambia. Direzione su, giù, ombreggiatura con l'angolazione dell'ombreggiatura, vedete qua, si può cambiare l'angolo. Quando trovate questo simbolino con scritto angolo, in qualsiasi effetto, filtro, sappiate che potete direzionare l'angolazione cliccando con il sinistro sul pallino, spostandolo, oppure inserendo qua direttamente l'angolo. Quindi metodo luce, scolora, moltiplica, ci sono tante cose che possiamo selezionare. Possiamo abilitare contorno, togliere la spunta, texture, togliere la spunta, e adesso togliamo smooth surlievo. Traccia. Questo è una cosa molto carina, perché ci dà questa traccia bianca, questa cornicina bianca, che possiamo cambiare anche di dimensione, vedete? In un video io questa cosa l'ho mostrata per la creazione degli stickers. Se voi volete creare degli stickers potete aggiungere questa traccia, che gli dà quel tocco di sticker, quel bordo bianco, ecco. Posizione esterna, interna, metodo di diffusione, anche qui potete cambiare tutto, con l'opacità, vedete? Quindi l'opacità di questo bordo. E ovviamente il colore, possiamo cambiare anche il colore, possiamo fare una cornicina rossa. tolgo su traccia. Quindi ricordatevi, spunta su queste opzioni per abilitarle, si toglie la spunta per disabilitarle. Ombra interna, guardate, come dice la parola stessa, la seleziona. Qui c'è l'opacità, l'angolo, ancora una volta, la distanza dell'ombra interna, guardate. Riduci, dimensione, eccetera, eccetera. Disturbo, bagliore interno, clicchiamo, anche qui opacità, disturbo, possiamo cambiare tutti questi elementi. Finitura lucida, ecco qua. Sovrapposizione colore, sovrapposizione sfumatura, Pattern, questo, ora poi bisogna giocare con questi valori, poi questo sperimentatelo da voi se vi interessa. Bagliore esterno, questo è una cosa molto particolare, vedete? È tipo la traccia, solo che la traccia, vedete, è netta. Questa è una cosa più, appunto, a bagliore. E anche qui c'è il colore, potete metterlo giallo, gli date un bagliore giallo, ad esempio. Questa è una cosa che io uso spesso. Guardate, non è brutto, assolutamente. E qua ci sono tutti dei valori che sperimentate per vedere se l'effetto vi piace. Oppure c'è l'ombra esterna, che come dice la parola è appunto un'ombra esterna. Anche qua, distanza dell'ombra, vedete? Tutte queste opzioni, che volendo si confermano con ok, io annullo. Se le applico qua allo sfondo copia, anzi, disattiviamo un attimo il livello 1, così vediamo. Non si può fare molto, perché appunto prende tutto quanto, vedete? FX, opzioni di fusione. Se io vado a creare, non lo so, l'ombra esterna, ad esempio. Ah, qua mi fa così perché ci avevo cancellato, forse. Ok. Vedete? Non si vede nulla. Oppure, bagliore esterna. Idem. L'ombra interna, giusto sul bordo, guardate il bordo. Si può fare giusto un bordo un po' ombreggiato. Poi quella distanza si può entrare fino nel centro, però non ha tanto senso, magari. Traccia. Inutile, perché siamo già a immagine piena. Contorno. Idem, vedete? Non si vede praticamente nulla. Quindi, ecco perché vi dico, lo smooth effetto rilevo qualcosina si vede qua, ma è invisibile, praticamente, quasi. Questi effetti hanno senso se applicati o a un livello che ha un qualcosa di piccolo rispetto alle dimensioni dell'immagine, oppure un testo. Assolutamente un testo. E infatti facciamo una prova. Testo, prova. Selezioniamo tutto. 500. Questo è il testo a 500. Allora, è rosso, non si vede abbastanza bene. Ecco, appunto per quello. Io ho fatto questo testo, voglio risaltarlo, perché appunto, vedete lo sfondo? Si vede un po' poco contrastato. Allora, io seleziono il livello testo, vado qua a FX, e applichiamo qualcosa. Allora, prima di tutto, assolutamente un'ombra, una traccia. Vediamo la traccia. Guardate, ci sta benissimo. Quindi anche qui potrei applicare una traccia, o potrei applicare un'ombra interna. Però in questo caso non ci aiuta per questo contesto, ma magari migliora un po' i colori. Bagliore interno. Niente. La cosa che in realtà io uso spesso è questa, l'ombra esterna. Guardate. Allora, l'ombra esterna, come potete vedere, è molto molto carina, ed è quella che uso spesso, perché poi con la distanza noi gli diamo, vedete? gli diamo, come se avessimo riscritto il testo dietro, e adesso è molto più contrastato, come potete vedere. Si vede molto di più. Poi possiamo aumentare la dimensione, vedete? Però se l'aumentiamo troppo poi succede che diventa più uno sfondo. Però, se qualcuno piace, estensione, ecco qua, vedete? Ancora meglio. E poi abbiamo l'angolazione. Disturbo. Vedete? Se aumentiamo il disturbo diventa così. Quindi, con i testi si fanno delle magie con questi stili di livello. Si chiamano così stile livello, io le chiamo effetti di livello, ma si chiama stile livello. Quindi sperimentate, soprattutto sui testi, perché ci sono tante cosettine, finitura lucida, ad esempio, questa cosa mi piace tanto. Cambia, vedete, l'interno del testo. E potete fare ok per applicarlo. Possiamo, vedete, è come se fosse un oggetto avanzato. Possiamo disattivare da qua e possiamo in ogni momento tornare qui in FX e cambiare tutti quanti i valori. Quindi non c'è niente di distruttivo nell'applicare questi stili di livello. Bene. Quindi abbiamo visto anche gli stili livello. Nella prossima parte cominciamo a vedere quello che c'è sotto i filtri, perché c'è veramente un mondo e sono le cose più importanti per chi vuole fare degli effetti speciali, tra virgolette. Un saluto a tutti.